buongiorno a tutti siamo con federico varese che insegna criminologia all'università di oxford che è un esperto di crimine organizzato in particolare di mafie il suo ultimo libro è vita di mafia edito per inaudi lo ringraziamo per essere con noi volevamo vorremmo commentare con lui il caso della caserma di piacenza caserma levante che non è certamente il primo caso di devianza da parte delle forze dell'ordine italiane non solo anche senza evocare la banda della uno bianca ma ad esempio in messico è nota la potenza dei cartelli che permettono di fatto di controllare quasi completamente la polizia locale federico che impressione ti ha fatto vedere la foto dentro la caserma le foto dentro la caserma di piacenza sì grazie dell'intervista è una storia veramente grave gravissima e drammatica ovviamente per la fiducia che si dovrebbe avere nelle istituzioni credo che si possano dire alcune cose che ti magari ti metto in vista poi ne possiamo parlare diffusamente la prima cosa che possiamo dire è che noi abbiamo sempre detto che il mercato della droga arricchisce le mafie no questo è un tema classico questo caso però ci dice che in realtà il mercato della droga arricchisce anche e permette anche la corruzione delle forze dell'ordine quindi quando noi pensiamo agli attori che operano nei mercati illegali e nel mercato della droga in particolare non dobbiamo pensare ci sono solo le mafie a volte purtroppo ci sono anche le autorità deviate come in questo caso quindi questo è sicuramente il primo aspetto e come dicevi tu non è isolato ecco poi bisognerà capire quali sono le ragioni per cui è questo possibile questo secondo me è un aspetto importante dove le mafie non sono forti i mercati illegali sono spesso o non governati oppure in alcuni casi ci sono persone deviate che governano come in questo il tentativo dei carabinieri di questi carabinieri arrestati era quello di monopolizzare il mercato della cannabis a piacenza cioè non era solo quello di spacciare ma era quello di essere gli unici a farlo e decidere chi poteva spacciare chi no per dare il permesso agli spacciatori per strada a quelli che erano appunto accreditati quelli che non lo erano e questo è un tipico comportamento delle mafie perché cosa fa la mafia la mafia non è che si mette sulla strada spacciare no la mafia è un'organizzazione che dà il permesso agli altri di operare e governa i mercati questa è la vera funzione della mafia però non è che c'è solo la mafia che fa questo per questo questo lavoro a volte in questi casi appunto che mi auguro siano rari purtroppo hai anche i soggetti delle istituzioni che lo fanno come questo caso è stato ha dimostrato ecco quindi per chiudere sicuramente i mercati legali producono non solo mafia e arricchiscono le mafie come sappiamo bene però producono anche forti opportunità di corruzione per le istituzioni tra l'altro una delle teorie che noi richiamiamo molto spesso nel nostro libro bianco è quella del darwinian trafficker dilemma ovvero del fatto che i trafficanti più potenti riescano grazie al proibizionismo cioè sfruttando da un lato la corruzione delle forze dell'ordine per cui il fatto di non venire loro controllati dall'altro il fatto invece di spingere forze dell'ordine a controllare i concorrenti più deboli di fatto fa in modo che siano i pesci piccoli e i meno meno furbi meno potenti trafficanti a finire nelle mani del dell'apparato di controllo ne sono un esempio delle carceri italiane che già hanno una quantità di detenuti per per droghe più alta di della media europea e della media addirittura mondiale per cui stiamo parlando davvero di numeri che arrivano al terzo delle presenze in carcere in tutta Italia ma che vedono proprio una gran parte di pesci piccoli per cui di fatto il proibizionismo garantisce le organizzazioni criminali di avere il controllo perché facilita le organizzazioni più più grosse l'altro dato che volevo sottolineare con te è rispetto alla facilità con la quale si arresta per droghe infatti i carabinieri della caserma levante erano stati addirittura premiati per la loro efficienza per la loro produttività perché di fatto in Italia uno dei modi più facili per arrestare persone è perquisirle grazie all'articolo 103 della DPR 309 90 che permette la perquisizione anche a casa in caso di sospetto di presenza di droghe stiamo parlando di una popolazione che per un quinto quella meno adulta consuma sostanze per cui è molto probabile riuscire a trovare qualcuno con con una qualche sostanza e con un qualche mezzo per il confezionamento che è l'altro dettaglio che di solito si richiede per convalidare l'arresto questa cosa di fatto rende uno strumento potentissimo della repressione che sia repressione politica che sia repressione criminale in questo caso in caso di piacenza ma lo è stata negli anni anche appunto politica se pensiamo andiamo un po indietro nel tempo a nixon e ad altri allora come si fa adesso la risposta è abbastanza facile per chi come noi pensa che si debba finire la proibizione delle droghe illegali ma quali sono le soluzioni per riuscire a togliere questo potere alle mafie e togliere questa questa pervasività del della repressione beh a parte ovviamente ripetere le cose che ci siamo le tante volte anche la presentazione del libro bianco sulle droghe che abbiamo fatto di recente e quindi sicuramente pensare al problema della droga come un problema sanitario medico non criminale questo è mi sembra cosa fondamentale ma per venire allo specifico la cosa che veramente fa molta impressione è questa facilità dell'arresto noi sappiamo benissimo sappiamo benissimo che arrestare la gente ma andare in prigione è una cosa deleteria la maggior parte delle persone in prigione sono non violente io come sai vivo in inghilterra studio anche in inghilterra il 69 per cento delle persone in prigione in inghilterra sono in prigione perati non violenti vengono arrestati quindi quasi il 70 per cento vengono messi in prigione dove ovviamente imparano a o vengono vittimizzati o imparano a diventare violenti per sopravvivere quando invece ci sono dovrebbero esserci sempre di più alternative al carcere cioè il carcere non può essere una soluzione tanto più appunto per reati così minimi abbiamo visto nel caso di piacenza che poi la la supposta violenza di questi spacciatori era tutta inventata che in realtà questi carabinieri si inventavano di essere stati aggrediti che se ho capito bene è la cosa che gli permetteva di intervenire direttamente mentre invece dovrebbero fare lavoro di polizia giudiziaria quindi poiché aggrediti potevano arrestare direttamente gli spacciatori e molti che poi magari non lo erano quindi hai sicuramente questa facilità dell'arresto grata cosa incredibile di questa vicenda che io confesso non sapevo ma che il numero di arresti è considerato un criterio per avere far carriera avere dei premi appunto come dicevi tu prima questi polizia o questi carabinieri sono stati premiati proprio perché arrestavano tanto e di connivenze le protezioni che avevano nella gerarchia dell'arma quanto si capisce derivavano proprio da questo fatto specifico cioè non tanto che questi pagassero contingenti i superiori ma dal fatto che questi numeri di arresti servivano a mettere in bella figura i loro superiori ecco l'idea che tu abbia come criterio della sicurezza arrestare la gente e che più ne arresti più c'è sicurezza è una follia ovviamente è una follia pura che genera degli incentivi perversi nelle organizzazioni quindi oltre che diventare parte civile nei processi come ad esempio hanno fatto i carabinieri nel caso del processo cucchi no è sicuramente una buona cosa la prima cosa fondamentale per l'organizzazione è smettere di pensare che il numero di arresti sia un criterio di carriera all'interno dell'organizzazione questa mi sembra una follia perché produce appunto disincentivi perversi come abbiamo visto in tantissimi altri contesti sia nel mondo capitalistico che nel mondo anche dell'economia di piano no dove che poi si produceva sulla base della quantità e non e non della quantità il problema più generale che noi non possiamo quantificare in maniera semplicistica la sicurezza la sicurezza non è che va quantificata il numero di arresti la devi misurare in maniera molto complessa la fiducia dei cittadini e tra l'altro che chiaramente questi eventi non non aiutano quindi l'arrestare facilmente è un metra una metrica assolutamente allucinante per misurare l'efficacia della della polizia o della della sicurezza nel paese questo è assolutamente fondamentale trovo incredibile che questo facesse parte della loro del loro modo di comportarsi questo secondo me è assolutamente fondamentale e il carcere poi appunto non aiuta a ridurre poi va aggiunto va aggiunto un tema che quello è più specifico dell'italia e di questo contesto particolare che non è che si arresta chiunque nel caso di piacenza si arrestano certe persone si arrestano immigrati che sono appunto non violenti si arrestano si impauriscono possibilità dell'arresto persone che lavorano nel mondo della della prostituzione in genere appunto immigrati e persone deboli e quindi arrestare queste persone poi diventa anche più facile quando c'è un contesto politico e di discorso pubblico che criminalizza queste persone no e quindi il discorso pubblico politico dovrebbe essere non quello di difendere a chiunque arresta e di essere sempre contro chiunque viene arrestato ma è quello di difendere la realità la realità anche contro chi la infrange avendo la divisa in questo caso quindi quindi c'è un tema generale sull'inutilità degli arresti anzi spesso la controproducente tra l'altro con tutta l'innovazione tecnologica tu puoi benissimo avere dei sistemi per controllare la persona che ha commesso un piccolo reato e continua a vivere a casa sua a lavorare a pagare le tasse ad avere un mutuo eccetera quindi quello è inutile in più c'è un clima in italia politico che rende più facile prendersela con determinati soggetti immigrati che sono poi quei che venivano malmenati arrestati in questo caso ecco questo secondo me è l'altra faccia della medaglia che va che va ricordata e poi no no volevo confermarti e rilanciare rispetto cioè non è solo l'italia purtroppo dove le minoranze in questo caso da noi immigrate ma ad esempio negli stati uniti la minoranza afroamericana è oggetto particolare della repressione basti pensare al caso floyd ma basti pensare alla percentuale molto più alta di arresti fra fra americani e ispanici rispetto ai bianchi per quel che riguarda il possesso di cannabis negli stati uniti il possesso di roga anche in inghilterra ho visto uno studio di qualche anno fa di release che appunto conferma come le persone di colore siano più facilmente casualmente fermabili per una perquisizione rispetto alle persone e arrestate nonostante fra l'altro abbiano una diciamo una prevalenza di consumo di sostanze addirittura minore in inghilterra rispetto ai bianchi l'altro dato che che volevo dire l'IP che è un'associazione di operatori delle forze dell'ordine che chiede la riforma delle politiche sulle droghe tende sempre a sottolineare questa cosa ovvero come anche quando efficiente l'azione repressiva del sistema proibizionista ovvero l'arresto dello spacciatore di fatto non genera più sicurezza perché mentre quando arresti un ladro un violentatore di fatto toglie una persona che produceva insicurezza da da un contesto dal contesto diciamo sociale quando invece arresti uno spacciatore di fatto liberi solo il posto a un altro spacciatore per per spacciare perché il mercato rimane nel senso che la domanda rimane in 60 anni di vigenza delle convenzioni il consumo di sostanze è sempre aumentato non è mai diminuito per cui non il tentativo di diciamo rimuovere un consumo millenario di sostanze psicotrope è assolutamente ipocrita e inutile e appunto anche l'azione efficiente provoca di fatto da un lato aiuta i più grossi perché elimina i meno i meno i meno bravi dall'altro crea spazio di mercato per cui crea opportunità che poi e che aggiungere sicurezza no assolutamente per tornare al tema di prima cioè della del razzismo di fondo che c'è nel modo di arrestare in alcuni paesi appunto gli stati uniti ecco l'impressione comincia a essere quella di un sistema di repressione sociale che attraverso la scusa dell'arresto per piccolo spaccio o consumo di droghe ovviamente in alcuni paesi in realtà da l'impressione di essere un sistema di repressione sociale contro certe minoranze che vengono continuate ad essere perseguitati in un modo o nell'altro quindi quindi il mercato c'è la scusa dell'arresto per spaccio per per piccolo consumo di piccole quantità in realtà poi serve a indirizzare la repressione di uno stato nei confronti di certe minoranze questo è gravissimo ovviamente che poi riduce la fiducia di queste minoranze nei confronti del quello stesso stato e crea poi delle enclave delle enclave sociali a volte etniche che non si fidano dello stato che non e quando hanno anche poi un crimine che loro vogliono denunciare commesso all'interno della loro comunità non si fidano di denunciarlo alle autorità vigenti perché sanno di essere a rischio di vittimizzazione come avveniva anche in questo caso il microcosmo di di piacenza sì poi appunto come dici tu arrestare uno spacciatore arrestare uno spacciatore non serve a nulla e poi sappiamo che sono comunque persone non violente cioè queste commerciano sono dei venditori di una merce quindi non è che vogliono usare la violenza in questo atto quindi non è che producono insicurezza come produrre appunto un furto o uno stupratore come dicevi tu quindi sì sicuramente il problema del consumo della droga non potrà essere risolto attraverso la repressione questo ormai si è capito quello che da noi si dice la war on drugs è fallita c'è la guerra alla droga che poi l'impianto del proibizionismo è fallito dal punto di vista repressione militare poliziesca deve esserci uno uno sforzo ma questo ce lo siamo detto tante volte di tipo sociale di tipo sociale per individuare i consumi e gestirli in maniera civile alla fine questo mi sembra ormai una cosa ovvia il caso di piacenza però ci ricorda come come anche all'interno delle istituzioni di persone in divisa i mercati illegali possono essere governati e come alla fine se tu crei un mercato illegale questo mercato illegale spesso viene poi governato da qualche uno e quindi non è che esistono i mercati illegali disorganizzati in genere c'è un ordine di questi mercati c'è lo spacciatore c'è al suo posto e ci può andare solo lui allora chi è che organizza questi mercati e allora è lì che crei la domanda di mafia nei mercati illegali la domanda di governo illegale del mercato che a volte quando ci sono è fatta dalle mafie altre volte è fatta da persone che dovrebbero fare esattamente l'opposto cioè combattere l'ilegalità è anche vero che è quando hai un'ilegalità così diffusa c'è un mercato così vasto è impossibile eliminarlo e quindi ci devi convivere per forza e quello che fanno questi questi poliziotti o carabinieri infedeli è semplicemente governarlo per il loro vantaggio personale non per la sicurezza è ovvio che la soluzione civile sarebbe di avere dei sistemi organizzati dallo stato dove questo commercio può avvenire in maniera sicura mi sembra l'unico modo e quindi soprattutto per dire che il modo in cui hai risolto la questione ovvero che il proibizionismo genera domanda di mafia per la gestione del mercato credo che sia molto efficace come come immagine perché poi un mercato vastissimo se tu studi guardi la storia delle mafie il vero salto di qualità delle mafie nella loro storia è stata la droga cioè la droga ha avuto un effetto incredibile sulle mafie fino ad un certo punto vedi la mafia siciliana governavano vabbè un po' le sigarette no il mercato delle sigarette e prima erano un'organizzazione molto rurale tutto sommato no quindi il vero salto di qualità e la violenza poi delle guerre di mafia dagli anni ottanta in poi è prodotta da conflitti all'interno della di dispute sulla sulla droga cioè la grande guerra di mafia degli anni ottanta che nasce appunto che ha fatto centinaia di morti nasce proprio da una una disputa tra famiglie su il commercio di droga dalla sicilia in america perché si erano perse delle partite uno pensava che se l'altro volesse fregare e da lì è scattata la guerra quindi quindi le droghe hanno avuto un effetto importantissimo sulla storia delle mafie continua ad averlo e in un qualche modo la droga gli ha fatto fare alle mafie il salto di qualità perché con tutto quel denaro oltre ovviamente ad alcuni mercati legali come il cemento però sono i due mercati fondamentali mafie alla fine un'ultima sollecitazione che deriva da una mia impressione tu vivi in inghilterra per cui magari hai avuto meno possibilità di seguire anche se segui diciamo media e social italiani cioè sul fatto che abbia fatto più scandalo il fatto che questi carabinieri di fatto fossero spacciatori di sostanze e che vivessero in agio e nel lusso piuttosto che torturassero e picchiassero le persone questo per una diciamo appunto lo richiamavi prima cioè su un clima che fa in modo che appunto un diciamo un'attività come quella delle droghe sia più grave rispetto invece a un atto di lesione non solo dei diritti ma fisica delle persone come può essere la tortura hai avuto anche tu questa impressione rispetto alla reazione italiana oppure solo una mia supposizione? sì la reazione italiana mi sembra non ha sottolineato a sufficienza l'efferatezza della violenza nei confronti di persone completamente innocenti cioè ci si è focalizzati appunto sul fatto che spacciassero droga e che magari avessero contatti con spacciatori milanesi, l'andrangheta ma qui si sta pensando di usare la legge sulla tortura, cioè il codice penale che si chiama una forma di tortura a Piacenza quindi un fenomeno di una gravità una gravità senza pari l'altra cosa quindi sicuramente sì c'è questo clima che tende a enfatizzare lo spaccio e non da dimenticarci che ci sono delle persone che sono state quasi ammazzate di botte come risulta dalle intercettazioni, dalle foto e poi si scoprirà anche adesso con i Ross che faranno le analisi sul sangue che è stato versato di fatto in questa caserma l'altra cosa interessante che potrei aggiungere è che l'altra cosa che emerge è che l'andrangheta comunque è quella che è la grande distributrice, cioè la grande distributrice della marijuana che loro compravano, se ho capito bene andavano a comprare a Milano da distributori dell'andrangheta e questo ci deve ricordare un'altra cosa molto importante soprattutto noi ce la ricordiamo bene essendo entrambi ferrarensi, cioè che dietro lo spaccio locale anche appunto di immigrati magari che vengono dall'Africa o dall'est Europa c'è però un'organizzazione criminale italiana, italiana molto potente che di fatto anche in questo caso si dimostra avere il controllo dei flussi grossi dei chili e chili di droga quindi il proibizionismo rafforza questa organizzazione come diciamo prima la droga è il mercato più ricco per queste organizzazioni criminali nel caso specifico l'andrangheta che poi lo distribuisce sul territorio a chi lo vuole comprare in questo caso erano degli spacciatori di Piacenza alleati con i carabinieri che sono adesso sotto inchiesta ovviamente vedremo poi come finirà l'inchiesta e quindi per il momento li dobbiamo considerare innocenti e fino a qua al contrario, comunque l'altro tema secondo me che emerge con forza è questo della centralità dell'andrangheta della distribuzione e come gli spacciatori spesso immigrati siano l'ultimissima catena l'ultimissimo anello di una catena che ha alla base un'organizzazione criminale autoctona e del resto ha perfettamente senso perché è molto difficile per un'organizzazione criminale non autoctona avere controllo dei porti, avere controllo della distribuzione, cioè non è impossibile però non stupisce che l'andrangheta ha questa capacità rispetto invece da quanto potrebbe avere il piccolo spacciatore immigrato dal Nigeria o dal Mali o da un altro paese, poi certo per strada noi vediamo lo spacciatore magari immigrato che è quello che viene poi vittimizzato e arrestato in queste occasioni ma non dobbiamo mai dimenticarci cosa c'è dietro. Allora, e chiudo, se noi vogliamo veramente combattere questo fenomeno da una parte dobbiamo cominciare a ripensare seriamente il proibizionismo, tema che abbiamo ben presente ma dall'altro dobbiamo anche cominciare a combattere le mafie nostranze che sono alla fine quelle che guadagnano da questa illegalità alla fine. Grazie mille Federico per la chiacchierata, ti lascio al tuo weekend a Oxford, grazie ancora e buona serata. A voi. Allora. Allora.